ci sono due punti secondo me da analizzare il primo è questo marco mi vai gentilmente sul profilo di rosa chemical su instagram grazie mille luigi credo si chiami gipsy rosa se non sbaglio perché vorrei capire questa cosa del dell'identità religiosa allora partiamo dal presupposto che è stato laico bla 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 però ci può stare ovviamente il rispetto per la fede un paese fortemente cattolico di sagrazione infatti volevo 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 capire questa cosa perché mi ricordo ad esempio chile lauro che aveva scimmiottato un battesimo che era l'altro anno due anni fa l'altro anno forse ha già su quello va bene però vorrei capire rosa chemical in relazione al discorso religioso grazie diciamo è però siamo un paese ateo comunque questa qui che sta in parlamento non lo so vista la situazione che non è manco tanto grave che ha fatto sto ragazzo ma infatti la domanda è dove dove è capito questa potenziale dissacrazione per incrocivisto lo spacchi in diretta quello già può essere offensia però voglio sapere dove dov'è capire poi c'è il discorso di fans che conosco molto bene dato che riguarda pure ale nello specifico di di rosa chemical ma mo ci arriviamo infatti non ho capito perché sarebbe portare con gli fans a sanremo che che cazzo vuol dire perché ma niente è uno slogan non vuol dire niente cioè secondo me quello che sta facendo rosa chemical è una cosa che va benissimo cioè sta facendo hype prendendosi vari standardi ha fatto la foto con alex moci lo se sta prendendo lo standardo dei holy fans noi faremo questo questo tutte parole chiave slogan marketing per hype per il progetto e per le canzoni sua alla fine questo è un grande una grande sponsorizzazione a rosa chemical una dv ci sta però alla fine io non capisco proprio l'indignazione totale per per le cose che ha detto c'è cosa c'è di male veramente è ma dice proprio che attacca la religione cristiana io vorrei capire come c'è la offenda capito magari cioè nonostante usi tutte queste parole chiave io non vedo nulla di di grave nulla di criticabile in nessuna forma alex aveva detto che rosa non ne sa nulla ok allora se vai un attimo sul post dove c'è la copertina coi piedi spiego allora forse si riferiscono al testo ok perché magari nel testo della canzone ci sono riferimenti ad holy fans ed eventualmente anche al discorso cristiano holy fans come diceva simone sì è una parola chiave come tante altre e quindi in realtà stanno facendo il gioco di rosa ma ti dirò simone che in realtà stanno facendo anche il gioco del partito tu dici perché l'indignazione amico mio perché perché il signor mauro che vota guarda whatsapp il signor mauro che adesso lo guardo che vota fratelli d'italia vuole sentirsi ribadire questa presa di posizione ok anche se poi nell'atto pratico non cambierà un cazzo cioè né da parte di rosa ma allora ma è una pantomima ovvia sia da parte dei politici sia da parte degli artisti che iconograficamente diciamo rappresentano queste cose poi dal nostro punto di vista che ovviamente siamo pro holy fans pro tutte queste cose qui ci fa piacere pro apertura gender assenza di discriminazione lotta di discriminazione a noi fa ovviamente fa piacere però nello specifico è un gioco delle parti è esattamente questa roba però anche riguardante holy fans però adesso bisogna cominciare un attimo a scinde perché holy fans è diventato un po il simbolo di una certa battaglia alla normalizzazione del sex working del certo tipo di attività lavorativa legata appunto all'ambiente della sessualità però adesso che si facciano campagne a favore di holy fans mi sembra una stronzata perché non è che cioè noi dobbiamo fare campagne a favore del appunto della normalizzazione della sessualità anche come mestiere non ad un'azienda privata che guadagna miliardi perché non può diventare quando si parla di sex working bisogna sempre di ah no bisogna difendere holy fans ma sti cazzi di holy fans bisogna difendere la categoria e poi quando non c'è più holy fans lo faranno da un'altra parte perché chi è che c'è guadagna Dave che c'è guadagna e chi già e chi già è grosso su holy fans assolutamente sì assolutamente sì il punto qual è quello che dicevamo prima cioè è una parola chiave che adesso conoscono anche i bumeroni quindi holy fans uguale merda per molte persone quindi si utilizza quel nome da traino però hai perfettamente ragione cioè il punto è l'azienda il punto deve essere questo cioè sono persone che lavorano pagano le tasse ok quindi normalizzazione poi ripeto il suo discorso andando incontro ad una normalizzazione del sex working secondo me perderebbe anche moltissima forza moltissima richiesta però questo del proibito ma sa però quello dovrebbe essere l'obiettivo poi holy fans che al momento è quella dominante diciamo che è quasi un monopolio in termini di diciamo sex working non eccessivamente spinto una volta c'era anche patria una però poi padre non si è completamente distaccata da questo aspetto che mi ha risposto vale che sta della mamma ha mandato una foto ed ho capito riferimento in relazione anche ai simboli religiosi perché la foto marco se la fa vedere dei piedini in realtà ok è la questa qui è la foto del disco del singolo credo ok e questi sono i piedi di alex però in realtà c'è un'altra foto che non posso farvi vedere perché ci sono le zinone di ale che andrà su holy fans che è la copertina alternativa dove c'è ale nuda con un crocifisso sulla pancia però ma vero tipo come se fosse tatuato è tipo no 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 è un rosario non crocifisso rosario è un rosario riccardo quindi sono andati a guardarsi il mio nodino spiegano hanno fatto bene saranno fatti una bella pippa come funziona per vedere quella integrale e penso soli panza di rosa che è iscritto a olifanzo ok era per capire quindi il discorso è che da quel singolo promosso anche a sanremo puoi accedere all'olifanzo di rosa chemical dove puoi vedere anche questa foto questa era l'associazione però qui decade diciamo la connessione diretta tra rai e simbolo religioso perché subentra un'altra piattaforma capito cioè il conto il conto è dissagrazione di quel simbolo in diretta nazionale con bambini un conto è c'è il tramite di una piattaforma riservata agli adulti viene sponsorizzata sì però non c'è quella dissagrazione in diretta quella cosa avranno parlato anche un po' per sentito dire cioè avranno secondo me sono fatti i berasponi no però nel senso la tipa in particolare avrà ragionato su quello che ha capito dalle notizie che sono arrivate magari dice no porteranno questa copertina a sanremo oppure ha pensato che fosse la copertina unica del disco magari veniva vista a sanremo ma no saranno iscritti legate a però mi sembra tutto fatta regola d'arte poi si possono fare riflessioni su tutto quello che è il contorno però riflessione possiamo fare noi ma come come diceva simone come diceva pure la chat è una pantomima e basta c'è proprio poco da aggiungere c'è ognuno ha il proprio ruolo e questa cosa fa gioco a tutti punto cioè veramente poco ormai sono anche un po stufo di ribadire le cose perché sembra il copione presa al remo veramente se poi ragazzi che vogliate o meno la musica tranne in rari casi è da sempre un mezzo per veicolare ideologie a meno che uno prezzo generale come come insomma diktat di non farlo perché magari pop musica totalmente del responsabilità c'è la musica completamente priva sì sì certo ovviamente però da sempre però è utilizzata anche quello è pure un messaggio in realtà effettivamente mo che ci rifletto è perché anche le canzoni totalmente prive tipo la musica leggerissima no quella che viene citata anche quelle in realtà potrebbe essere uno strumento di proprio annullamento del pensiero quindi le canzonette ecco beh alla fine qualcuno diceva tutto è politica no appunto sono quelle quelle canzoni che ti fanno dimenticare magari di di dover magari fare la rivoluzione e quello che bisogna farlo beh esatto magari sono proprio quelle che non parlano di di nulla politica io almeno ho sempre vista così ma c'è una canzone in realtà che parla dopo di questo è molto famosa che quella di caparezza sulla puglia no penso che c'è un ritmo magari molto gioioso ma in realtà il testo è tremendo e infatti la maggioranza delle persone tipo enzuccio tranquillamente la mettono nei matrimoni con con gaudio quando in realtà è un testo diciamo molto critico nei confronti di molte situazioni in italia canzuccio piace quel tipo di contrasto una persona che percepisce anche quel quello stridere di due diciamo atmosfere contrastanti lui grazie ivan grazie vanone immaginate la depensante di fratelli d'italia che ha speso il suo tempo ben pagato per scrivere quel discorso presentato in parlamento dove si dovrebbe discutere di tematiche vere e poi c'è un bestemmione finale in maiuscolo ma il fatto che lei stesse così in soggezione mi fa ancora di più pensare che in realtà non lo voleva veramente fa ma è il copione pantomima obbligatorio proprio c'è stato tipo a vergognare ma Ivan tu lo sai meglio di noi ormai parli sempre di queste tematiche lo sai benissimo il ruolo che hanno questi diciamo gestori della politica questi ammaestratori di serpenti sono proprio messi lì come personaggi che devono ribadire l'ovvio alle persone che li votano quello che si volevano la teoria gender andremo contro e difenderemo le ragioni di cristiane vogliono distrarre dalle tematiche serie ma certo è tutto tempo buttato è tutta distrazione ormai è la rappresentazione come direbbe germano plastica della politica degli ultimi 15 anni anche 20 forse cioè è tutto così soprattutto non fanno vere e proprie riflessioni ma non ti danno del contenuto su cui poter fare dei ragionamenti tuoi io vorrei sentire l'opinione è così è così uno che fa una bella di di esamina non ci stanno proprio le disamine di una volta quelle olimpiche ma perché ragazzi perché ovviamente è più complesso cioè è molto più facile fare indignare il mauro di turno se vede sto pezzettino semplicemente il titolo del giornale e associa subito rosa chemical che schifo è un f questo io non voglio stare roba per i miei figli è un falso non voglio stare roba per i miei figli pace fine compitino fatto questo è ovviamente in passato sì è vero c'erano anche belle riflessioni ma c'erano strumenti diversi la televisione veniva usata anche in modo virtuoso per dibattiti politici di un certo spessore poi piano piano è diventato sempre più un circo tipo krembaud con gente che va in parlamento eh c'è alex adesso mi ha attaccati ma come no allora secondo me la foto è la foto un po problematica perché li schiaccia però posso confermare hai detto la frase peggiore che potevi dire davide mamma come come io non ho capito no allora diciamo che amore sono bellissimi no secondo me la foto non rende giustizia perché contrasto e posizione un po inganno però vabbè l'avete visti ma quasi stai confermando la sua ipotesi che lì sembrino sembrino orribili perché sono orribili non mi sarei mai messo con una persona un piedi brutti diciamo che sembrano un timido sette da quella foto però meritano ma tanto insomma non ha mostrati anche in altri video scrive sono più belli i miei